abbiamo qui un garofano bianco ora dividiamo la fine dello stelo in due parti e robustiamolo con un po' di nastro adesivo e poi mettiamo a bagno le due estremità in due bicchieri in un bicchiere c'è acqua naturale trasparente mentre nell'altro c'è acqua colorata ora lasciamo riposare il fiore ok dopo un giorno i petali da questa parte hanno iniziato a colorarsi questo esperimento mette in evidenza la risalita della linfa grezza lungo i vasi del fusto nello stelo del garofano un fenomeno che avviene nel fusto di tutte le piante la linfa grezza è trasportata in questo modo alle foglie per osmosi e capillarità essa fornisce l'acqua che serve per la fotosintesi e rimpiazza l'acqua che è stata perduta per traspirazione da questo lato del fiore i pigmenti del colorante risalendo insieme alla linfa grezza hanno colorato le nervature dei petali che sono foglie modificate